Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Giorgio Goulet ha richiamato Donzelli per il fatto che Donzelli ha trasceso il dibattito parlamentare e ha offeso, perché questo è. E' offeso il partito democratico e la sinistra, perché quando tu chiedi a una parte politica significativa di questo paese, abbiamo opinioni politiche distantissime, ma non gli puoi chiedere voi state con lo Stato o state con i terroristi. Perché è evidente, l'ha detto lo stesso Nordio che è della stessa parte politica di Donzelli, che non c'è nessun parlamentare, nessun partito, che sta con i terroristi e contro lo Stato. E quindi Donzelli ha trasceso, ma è un peccato, è un peccato perché Spenna è stato detto, cioè si è portato questo cospito a sorgere all'eroe, è uno che gambizza, che mette bombe, che cerca di fare stragi, fa sciopero della fame, faccia lo sciopero della fame, è una cosa legittima, viene curato come tutti vengono curati, perché ne hanno diritto, però questo non porterà certo a revocare il 41 bis. Fare tutta questa manfrina intorno a cospito rischia anche l'emulazione, perché poi di teste calde... Ecco, con il rischio che salga la tensione e le scarici delle azioni degli anarchici. Teste calde in giro ce ne sono sempre, quindi continuare a parlare di questo cospito non fa bene a nessuno. Allora, va di pubblicità.